Allora ragazzi, Napoli-Barcellona 1-1, si conclude quindi l'andata degli ottavi di finale di Champions League, un risultato che si può dire nel complesso giusto. Diciamo che il Napoli ha fatto, secondo me, una partita migliore dal punto di vista delle occasioni vere e proprie, mentre invece il Barcellona ha fatto il suo solito gioco di Kitaka con maggior possesso palla, senza però essere particolarmente pericolosa a livello offensivo. Quindi nel complesso, secondo me, il pareggio ci può stare. È un risultato che però, considerando il gol subito in casa, non fa tanto piacere ai padroni di casa, perché ora come ora sei costretto ad andare al Camp Nou per vincere, perché anche con uno 0-0 o con un 1-1, con un 1-1 vai supplementare, ma con lo 0-0 passano direttamente loro. Se fossi un tifoso del Napoli, dico la verità, sarei comunque soddisfatto, per quanto appunto il risultato non è come aver vinto, il Napoli per me ha fatto una buona prova. Non si è fatta sottomettere dal Barcellona, se non in alcune fasi rare della partita, e hanno sempre giocato con il giusto coraggio e il piglio di chi vuole comunque dimostrare a una squadra importante come il Barcellona che è presente. Molti al momento del sorteggio avrebbero detto che questa partita sarebbe stata un massacro, visto che in quel momento il Napoli era in crisi grave, in una crisi particolarmente grave. E quindi sotto questo punto di vista, un 1-1 in casa col Barcellona non è mai da buttare via. Per questo motivo, secondo me, i napoletani devono essere assolutamente soddisfatti della prova dei propri giocatori. Tra l'altro voglio fare i complimenti a Mertens, che è diventato oggi il miglior marcatore nella storia del Napoli. E per carità, comunque, non parliamo di 300 gol e passa, come appunto ne sono stati fatti in altre squadre, ma aver fatto più di 100 gol in, quante sono, 7 stagioni, è comunque un risultato molto importante, soprattutto se nei tuoi primi anni di carriera eri più un esterno e neanche titolare che un effettivo centravanti. Quindi, se consideriamo che è la quarta stagione che gioca al centro dell'attacco, aver fatto più di 120 e passa gol con la maia del Napoli, è sicuramente un risultato molto importante e gli vanno fatti i complimenti. Tra l'altro, gol fantastico, il classico gol all'esterno napoletano, cioè un gol che può aver fatto Insigne o che, appunto, può aver fatto Mertens. Non Cajon, perché non segna mai e nel secondo tempo si è mangiato un gol clamoroso, ma, appunto, uno tra Insigne e Mertens li fa sempre questi gol del genere. Poi, nel secondo tempo, è arrivato il pareggio di Griezmann, che oggi si era travestito da Giacomo nel famoso sketch del Conte Dracula su tre uomini in una gamba, veramente. Era una capigliatura imbarazzante e ha segnato quello che, secondo me, è stato il peggiore del reparto offensivo. È strana questa cosa, perché Messi non ha fatto grandi cose, ma si è fatto comunque valere. Diciamo che quando partiva in velocità i difensori del Napoli sono andati parecchio in difficoltà. C'è da dirlo. Invece Griezmann non mi era per nulla piaciuto fino a quel momento, però ha trovato un bel assist dalla destra e col piattone ha battuto Ospina. Poi, nel finale, si sono accesi gli animi con l'espulsione di Vidal. Vidal è stato, secondo me, molto stupido. Molto stupido perché Mario Rui, dopo il fallo, ha visto che era stato ammonito e furbescamente è andato a provocarlo perché sapeva che il giocatore, fischiato ogni 3x2 perché ex Juventino, è nervoso per aver preso il giallo, gli avrebbe risposto. Vidal, da idiota, lo ha fatto. Si è preso il doppio giallo e l'ha meritata espulsione. Mario Rui lo ha fatto apposta, giustamente, perché sapeva appunto che anche se fosse stato ammonito, anche lui sarebbe stata la prima ammonizione della gara. È successo quello che aveva previsto, quindi Vidal è stato uno sciocco, soprattutto perché costringerà il Barcellona a cambiare un po' i piani in vista della partita di ritorno. Per carità, non parliamo di una squadra che ha 11 giocatori contati, e sia chiaro, però ha comunque impedito al proprio allenatore di contare su di lui per la partita di ritorno. Per una sciocchezza, secondo me, a dir poco, evitabile. Nel complesso, comunque, lo ripeto, è stata una partita, diciamo, non troppo spettacolare, c'è da dirlo. Cioè, se qualcuno ha messo questa partita per vedere calcio champagne, sicuramente sarà rimasto deluso, ma è stata una partita maschia. Ci sono stati parecchi interventi in mezzo al campo, alcuni, secondo me, forse troppo esagerati. Credo che l'arbitro non ha fatto proprio un arbitraggio eccelso, perché in alcuni casi ha lasciato correre quando per me avrebbe dovuto fischiare. In alcuni casi, invece, è stato troppo severo quando in realtà non... Almeno a parer mio, non è stato un arbitraggio particolarmente convincente in tutto e per tutto. Se gli devo dare un voto, più di un 5,5 non glielo do. Ecco, ma a parte tutto, comunque, non è stato l'arbitraggio a condizionare il risultato finale. Ero convinto che il gol del Barcellona fosse in fuorigioco, ma tanto quella è una questione di... Cioè, nel senso, il VAR interviene per cose oggettive. Non è una scelta dell'arbitro, perché se il giocatore era in fuorigioco il gol sarebbe stato annullato. E quindi non ha certo colpe se appunto il gol era regolare. Nel complesso, comunque, lo ripeto, il Napoli ha meritato di uscire da questa partita senza la sconfitta, perché non ha demeritato rispetto ad un Barcellona che non ha giocato benissimo. Se dobbiamo fare un paragone, ha giocato leggermente meglio di quando ha giocato con noi qualche anno fa, per dire comunque la loro ultima trasferta in Italia, per fare questo paragone. Ma non quel tanto che ti fa dire... Ah no, ha giocato anche con l'Inter. Ho detto una cazzata. Ma non quel tanto che ti fa dire Oh, ha giocato benissimo! Che spettacolo! Il Barcellona... No! Il Barcellona ha giocato come una squadra che tecnicamente è più forte del Napoli, e su questo siamo tutti d'accordo, ma non ha fatto quel qualcosa in più che ti fa dire avrebbero meritato di vincere. Personalmente, se avesse vinto il Napoli a fine partita, non avrei veramente trovato nulla da dire, perché comunque anche i padroni di casa hanno avuto le loro occasioni per segnare. Mano Lasso nel primo tempo l'ha colpita di punta, e se avesse segnato oggi veramente ci sarebbe stata una taglia per non entrare in Spagna per tutta la vita, per quanto l'avrebbero odiato. Poi c'è stato anche un tiro di insignie fuori di poco, ma soprattutto c'è stato un gol divorato da Kaijeon, che solo davanti al portiere, bella parata di Ter Stegen, ma poteva fare assolutamente di meglio. E non è un caso appunto che negli ultimi anni abbia la media realizzativa di uno Schick qualsiasi, e non lo Schick tedesco, ma lo Schick che ha vestito la maglia della Roma. Purtroppo per noi. Detto questo, ragazzi, allora, la qualificazione ancora non è buttata via, cioè assolutamente no, perché comunque sì, hai pareggiato prendendo gol, ma vai lì sapendo che te la puoi giocare. Se ti va bene, magari porti un altro uno a uno e vai ai supplementari. Non è un risultato così disastroso, poteva andare meglio perché hai preso gol, ma secondo me il Napoli più di così difficilmente avrebbe potuto fare. Poteva fare qualche errore di meno in fase difensiva, usare un po' di cinismo in più in zona offensiva, ma nel complesso la prestazione del Napoli è stata indubbiamente positiva. Non così tanto da poter sulclassare il Barcellona, ma sicuramente per onorare la competizione sicuramente andava bene questo. Un saluto dal vostro Galetto Reggiallo Rosso, scusate se si sente un pochino male, ma ho dimenticato il microfono in macchina, quindi spero che si senta comunque in maniera accettabile. Un saluto e ci vediamo presto per un altro video. Ciao ragazzi e sempre Forza Roma!